Serviva una pronta reazione dopo l'immeritato stop nel derby contro l'Eraclio, così è stato. La Florigelandia nel match casalingo valido per la settima giornata disputato sul parquet del Palacolombo di Ruvo torna al successo battendo con il punteggio di 4-3 il Neapolis Futsal Club. La squadra di mister Danilo Danisi, artefice di un'ottima prestazione, soffre più del dovuto contro la formazione monopolitana, non capitalizzando diverse palle e gol nel finale di gara. Protagonista di giornata il pivò Roberto Magno, autore di una tripletta ed autentico trascinatore degli Azzurri. Parte benissimo la formazione federiciana che al decimo sblocca il risultato, schema su corner e puntata vincente di Roberto Magno che vale l'1-0. Ma il Neapolis è vivo, campo reale prima e il palo dopo salvano gli Azzurri. Somma, tutto solo, fallisce il raddoppio a metà frazione, ma due minuti più tardi è Magno, servito da Deliso, a trafiggere l'estremo difensore ospite. Andrea avanti di due reti, ma la squadra monopolitana non molla la presa e prima del riposo accorcia le distanze con Giannuzzi, complice a una deviazione di Nicola Fiorentino, si va al riposo sul punteggio di 2-1. Ad inizio ripresa Somma asciuppa una clamorosa pallagolla a porta sguarnita, mentre non sbaglia Manelli ben appostato sul secondo palo per il 2-2 della Neapolis. La reazione della Florigel è pressoché immediata. Magno mette nuovamente la freccia su Assis di De Feo, poi è lo stesso Capitano Azzurro con un preciso esterno a trovare l'angolo giusto per il 4-2. Duro colpo per la Neapolis che nel quarto d'ora finale schiera il portiere di movimento. Camporeale sbara la strada alla formazione barese, ma non può nulla sul tiro libero calciato da Giuliani allo scoccare del sessantesimo. Nel recupero succede di tutto con la porta e Rutigliani che mancano clamorosamente la quinta rete. Il triplice fischio consegna tre punti importantissimi alla Florigelandria per allontanare la zona rossa ed affrontare la prossima trasferta di Mola di Bari con maggiore serenità.